per trascoltare i suoi lavori. Gli voglio anche presentare brevemente la nostra scuola, un po' lo stavo facendo prima, prima di scendere qui in Aula Magna. È una scuola antica di Salerno, ci abbiamo, anzi, sono due, noi ci entriamo l'Istituto Tecnici di Genovisi, il Liceo Scientifico da Vinci, due scuole che sono radicate in questo territorio, si è con l'utenza che sia cittadina, se soprattutto per i Genovisi, coglie anche un ambito provinciale. Siamo attivi appunto da tanti anni, i Genovisi in questa sede che occupa storicamente da tanti anni, il Liceo Scientifico da un tempo più breve, e copriamo un po' quella che è quindi un'ampiezza di offerta formativa che va appunto dal settore economico, il nuovo settore della riforma, a un liceo scientifico. Io sono un poco sempre, non so se si nota, sono un poco ancora dopo una settimana coinvolto e commosso per tante situazioni che ci sono, però apprezzo sicuramente il contributo della comunità scolastica a cercare appunto di guardare avanti, di guardare avanti, perché questo è il nostro scopo. Lo nostro scopo è educativo, educare i nostri giovani, e certamente non possiamo farci prendere dallo sconforto. e in questa chiave educativa io vedo l'incontro di oggi, e a questo punto vorrei terminare appunto queste parole per lasciare subito la parola a Sua Cerenza, l'Arcivesco Moretti. Grazie.